E' fondamentale per ridurre il divario di genere per il quale il nostro Paese non è messo bene rispetto al goal 5 dell'agenda 2030, che è appunto quello che si riferisce alla parità di genere, è fondamentale avere dei dati, delle informazioni di qualità che consentano di valutare sia l'efficacia ex ante ed ex post delle politiche, sia l'efficacia degli investimenti pubblici che vanno in questa direzione. Per questo è fondamentale introdurre come prassi la valutazione dell'impatto di genere per tutte le politiche.